buongiorno sono qui a grottaglie in via delle torri 33 ma che ci vengo a fare e no perché mi hanno chiamata e sicuramente ci sarà qualcosa di molto bello ma di molto naturale perché parlo di natura beh glielo chiediamo sia a maria che a fabio perché io sono a caram 108 avete mai sentito adesso saranno loro a spiegarci che cos'è da dove viene questo nome perché questo bel negozio di tanta natura perché si parleremo proprio di natura oggi di prodotti naturali beh noi donne che ne sappiamo più di tutti e vogliamo solamente della bontà della qualche cosa di particolare perché un'idea che corrono è bene che ci nutriamo o facciamo nutrire la nostra pelle di roba essenziale di naturale ci hanno pensato loro hanno pensato proprio a voi buongiorno ciao maria ciao fabio bene spiegateci un pochettino come vi è venuto intanto questa grande idea per questo perché è una bella idea di pensare a noi donne ma non solo noi donne perché se si parla di natura si parla un po' di tutti sì allora buongiorno a tutti questo è un negozio naturale e non ci siamo classificati come erboristeria perché è un termine ormai quasi superato possiamo dire ma negozio naturale proprio perché racchiude un insieme di prodotti sia alimentari qualcosa di alimentare integratori e linee naturali come alcuni marchi italiani come la elan abbiamo voluto proprio scegliere una gamma di prodotti che rispettasse sia il mondo animale che quello umano e proprio per consentire alle persone di essere soddisfatte da un uso di cosmetici che rispettano la pelle ma che diano anche risultati funzionali al proprio corpo e al proprio viso allora chiediamo a fabio fabio perché ti ha trascinato sicuramente lei perché noi donne siamo sempre che trasciniamo e allora caram 108 perché perché questa è una cosa che mi ha colpito subito allora karma il karma quello che nella filosofia orientale è una specie di destino quello che fai al mondo ti ritorna quindi fai il bene ti ritorna del bene però scritto con la c quindi anche karma con calma piano piano senza grandi pretese perché i nostri prodotti tendono a far del bene non vogliamo vergognarci di ciò che vendiamo anzi siamo orgogliosi di offrire prodotti italiani e non di configliere tracciate certificate bio naturali 108 e il numero di volte che si dice aum aum quei diciamo così quei rosari orientali indiani quei mala hanno 108 grani loro hanno la pazienza a dire per 108 volte questo aum il mantra sacro e poi è 108 la data di nascita di nostra figlia quindi tutta una serie di coincidenze che andavano verso questo nome ci hanno portato a chiamarci così i giovani vedete i giovani quante idee quante quante novità perché sicuramente scopriremo insieme sia a Maria che Fabio le novità di questo questo karma 108 che mi piace tantissimo ripeterlo perché vi ricordo che siamo a grottaglie 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 oltre alla ceramica tante cose belle loro hanno deciso di darvi questa questa bellezza perché parliamo proprio di bellezza parliamo di natura parliamo di bellezza ma soprattutto parliamo di prodotti naturali che loro ci hanno creduto hanno creduto in questo in questa natura in questa questi prodotti che sicuramente avranno successo e sicuramente adesso andremo a vedere chi e perché ad opera questi prodotti perché insomma se parliamo di natura sicuramente qualcuno ci crede loro ci hanno creduto adesso dobbiamo crederci noi e voi da casa perché venendo qui a grottaglie in via delle torri 33 trovate proprio loro due con questo negozio bello accogliente e sicuramente che vi piacerà e ci resterete incantati ma soprattutto tornerete perché quando si va in un posto che si sente il calore come ho sentito io in questo momento il colore e la saggezza di questi due ragazzi è invitante e beh e io vi invito a a spostarci a far vedere ai nostri telespettatori che tipo di negozio ma soprattutto parliamo parliamo sempre di erboristeria che voi avete abolito l'ho sentito prima che avete un po abolito la famosa parola per non essere ingessati in una categoria che piano piano si sta evolvendo perché insieme a ciò che di tradizione erboristica come la elan 40 anni di una filiera nazionale controllatissima meravigliosa che oggi anche ci offre una giornata con una visaggista quindi è un'azienda che cura il cliente bisogna ricordare perché questo prodotto viene dalla elan elan e allora quando si viene in un negozio è certo che bisogna sottolineare questa cosa perché i prodotti che voi che noi oggi insieme a voi stiamo pubblicizzando sono in particolar modo di e l'an si si un marchio italiano e a noi piace moltissimo anche perché c'è questa forma di rispetto del rivenditore che ormai è quasi persa per il mercato online noi come rivenditori ci teniamo molto al rapporto con l'azienda e anche al rispetto del rivenditore purtroppo speriamo che voglio farvi una domanda soprattutto a fabio quando danno state ricevendo da questa forma di vendita così online che la gente pare che ci creda Sì allora il mercato online sicuramente è una risorsa è una prospettiva e non va demonizzato il problema è che spesso il cliente confonde le offerte che possono raggiungere tramite un sito o tramite il mercato online l'acquisto diretto magari da aziende o da rivenditori terzi online con il vantaggio che ci può essere economico una parvenza di vantaggio perché poi ci sono le spese di spedizione un tot da raggiungere per superare queste spese con il vantaggio di venire in un negozio fisico dove ci si fa una chiacchiera D'assieme ci si trasmette la conoscenza reciproca l'esperienza reciproca dei prodotti e si può vedere materialmente toccare con mano mano di cosa si tratta Ecco allora c'è tutto questo che magari pian pianino sarà anche digerito dal mercato online e si produrrà qualcosa di diverso noi ci siamo inseriti in questo canale di evoluzione per avere un contatto fisico diretto con la persona conoscerlo farci conoscere e assieme trovare una soluzione per ciò che sono le nostre necessità e le nostre potenzialità magari nascoste A questo punto vado direttamente non dalla visaggista ma dalla paziente perché in questo momento lei sembra una bella paziente invece no una cliente che si sottopone come per la prima volta si sottopone a questo trattamento sì sì sicuramente ne hanno parlato bene altrimenti lei non sarebbe qui seduta con i proprietari e quindi e ho voluto provare però la fiducia fa tanto in questo in questo campo benissimo adesso chiediamo alla visaggista intanto buongiorno con chi parliamo mi chiama giovanna piacere piacere del nostro Elan lei è la visaggista di Elan rappresenta la ditta in questo in questo momento rappresenta i i prodotti che adesso gentilmente tu ci spieghi sia il trattamento che stai facendo alla signora che cosa gli proponi e che cosa poi alla fine gli consiglierai allora la signora diciamo ho proposto quello che tutto quello che riguarda il make up di Elan perché chiaramente la Elan è un'azienda che ha diversi prodotti si occupa davvero di tutto il corpo in questo caso ci concentriamo sul trucco le ho applicato al momento soltanto un fondotinta illuminante come base almeno se esatto e quindi adesso procediamo un attimino con il trucco degli occhi e poi delle labbra le caratteristiche di questa azienda che cosa ci offre perché dobbiamo scegliere necessariamente questa azienda che cosa di particolare allora la Elan è un'azienda estremamente attenta innanzitutto alla scelta delle materie prime che siano di qualità che siano naturali prodotti sono completamente naturali sono biologici la Elan ha tutta una serie di certificazioni che altre aziende insomma spesso non hanno e chiaramente anche nell'ambito del trucco ci rivolgiamo a delle clienti che vogliono un trucco appunto naturale qui oltre al trucco scusami naturale perché è necessario e soprattutto con i tempi che corrono perché sappiamo che non tutti ci svegliamo al mattino e ci ritroviamo una patologia che non conoscevamo ed è ahimè è l'allergia che purtroppo è un periodo forse sarà l'aria sarà tutto però ci troviamo un pochettino allergici io per esempio in primis sono allergica sia al trucco degli occhi non posso usare se non dei prodotti allergici allora noi chiediamo se questa azienda ha pensato anche a noi assolutamente sì in quanto la Elan non utilizza allergeni non utilizza conservanti artificiali i prodotti sono tutti testati per sé metalli pesanti quindi voglio dire la cliente sostanzialmente può stare davvero molto tranquilla con l'utilizzo dei prodotti anche quelli che vanno davvero a contatto con gli occhi o con le labbra quindi insomma c'è massima serietà da questo punto di vista di nickel parliamo di nickel parliamo non solo di nickel ma anche di altri cinque metalli pesanti perché spesso insomma non è solo il nickel quello che dà problemi ma può essere il rame può essere il cobalto può essere altro perfetto noi ti lasciamo al tuo lavoro ma io con il mio operatore mi sposto perché voglio dare un'occhiata chiamo in causa in questo momento chiamo Fabio o Maria perché visto che abbiamo parlato di bellezza ma parliamo di bellezza anche del corpo perché il corpo come dicevo prima periodo non troppo buono per tutti noi sia per questa forma di allergia sia per tutto è intolleranza e andiamo perché vedo solo un angolo per l'intolleranza penso di allora intolleranza non tanto perché ci sono poi dei negozi specializzati e comunque sono già le farmacie ben fornite da questo punto di vista non aveva senso avere qualcosa di specifico per le intolleranze però molte tisane cosa possono trovare? sì cereali che comunque non si trovano facilmente al supermercato come fiocchi d'avena o comunque crusca che deve essere biologica perché non deve essere trattata con pesticidi quindi comunque molti si rivolgono appunto a un negozio naturale per questo tipo di prodotti così come semi di lino, miele, biologico e tutto quello insomma che può riguardare la colazione o la merenda insomma lo spuntino così leggero ecco mentre si dirigono verso i prodotti naturali di bellezza per il corpo per il viso e tutto c'è questo angolino particolare potete usufruirne anche voi naturalmente scegliendo ciò che vi piace perché abbiamo visto che ci sono delle integratori soprattutto fondamentalissimo il magnesio supremo e infatti è un must un prodotto molto venduto parlavamo di integratori, integratori perché vedo Fabio che ha uno scatolo in mano particolare e allora se parliamo di integratori questo sicuramente è un integratore a chi serve e per chi serve? allora magnesio supremo, marchio natural point, uno degli integratori più venduti in tutta Italia e anche in questo negozio a che serve? a che serve, il magnesio agisce in tantissime funzioni, anzitutto va a ridurre il senso di affaticamento e di stress è un mio rilassante, aiuta il transito intestinale, se è assunto la sera agevole il sonno, insomma è una panacea non solo per gli sportivi? non solo per gli sportivi, chiaramente se uno affronta un'attività che lo sottopone ad uno stress fisico e psicologico importante allora è giusto reintegrare maggiormente ma fa bene a tutti e purtroppo la nostra alimentazione è carente di questo minerale in questa maniera integrandolo con un cucchiaino al giorno, semplicemente o la mattina o la sera o laddove si vuole con due cucchiaini la mattina e la sera si pacifica questa necessità diciamo che è un prodotto completo Fabio, completo, no ecco, ripeto non solo per gli sportivi ma anche come tanti come noi dalla nostra età per esempio, io dico inizio a dire dalla nostra età si assolutamente, pacifica anche gli squilibri ormonali quindi assunto per le articolazioni va a fissare bene il calcio nelle ossa perché quando noi abbiamo una carenza di magnesio e una carenza di calcio andiamo a suggere dalle ossa questi minerali reintegrandoli li fissiamo e evitiamo che le ossa si vadano ad impoverire quindi le problematiche che possono scaturire da ciò osteoporosi in primis perfetto, è un integratore completo come ce ne sono tanti altri ma ci siamo soffermati su questo perché naturalmente è un integratore che poi conosciutissimo a voi e lo dico io, è in offerta, approfittate da noi sempre in offerta, anziché 25,30, prezzo di mercato 19,90 quindi troverete sempre a questo prezzo vantaggioso senza spese di spedizione perfetto, vedete, ecco, quanti vantaggi, quanti vantaggi ci offre Karma 108 non dimenticate questo nuovo perché può sembrare tanto difficile, io inizialmente quando sono arrivato ho detto invece no, così semplice, così bello, così chiaro mentre la nostra Giovanna continua a lavorare, pregherei il nostro operatore di dare proprio una zoomatina su lei proprio perché si impegna così tanto è bello sottoporsi, magari essere sicuri di ciò che si sta ricevendo in questo momento perché parliamo di prodotti e ciò che riceve il corpo penso che ne sente beneficio ed è questo che cercate di dire e di dare al cliente Sì, è la pelle che risponde poi a qualsiasi prodotto, quindi nessuno è ritornato dicendo ho avuto queste problematiche e per noi è questa la soddisfazione perché non solo non si hanno conseguenze negative sulla pelle, anzi è il contrario la pelle ne ritrova giovamento e nutrimento, è più luminosa, quindi questa è la risposta ad un buon prodotto Questa è la risposta che desiderate voi, perché con i vostri sacrifici, perché penso che ognuno di voi quando mette su un'attività c'è sempre il timore, voi siete giovani, è la prima volta che mettete su un'attività L'attività commerciale è la prima Aneddoto storico, noi volevamo aprire una libreria, Grottaglia ci ha fatto le scarpe la Mondadori, ben venga, un ottimo Ci siamo detti, cosa facciamo? Vogliamo vendere qualcosa di cui andare a casa alla nostra figlia e non vergognarci anzi essere orgogliosi, fare del bene alla nostra comunità e anche al nostro portafoglio quindi tirare su un'attività viva e vitale Belli questi giovani che noi auguriamo che sa che ogni bene Noi ci fermiamo un attimino, vediamo che cosa succede da questa parte e poi magari ci saluteremo perché sicuramente diamo lo spazio all'operatore di gestire un attimino il tutto perché è molto bello, mi piace, è accogliente come locale è strutturato perché penso che avete fatto pochissimo di ristrutturazione in quanto questo era già tutto Si, richiama un po' anche le strutture classiche di Grottaglia, infatti questo è nel crocevia fra il centro vero, il centro storico e il quartiere Lecerano Vogliamo ricordare dove ci troviamo, giusto? Perché tanto lo ricorderemo noi nello spot ma è bene che lo dici tu, spiega un attimino perché molte volte Grottaglia ci si può compondere, si perde allora tu sarai tanto bello chiaro da spiegare dove vi trovate È facilissimo, siamo al centro di Grottaglia, vicino alla torretta, all'orologio, ovunque ci si è in Grottaglia la si nota è in via delle torri 33, all'ingresso del quartiere delle ceramiche in via Crispi o alle spalle del castello quindi al centro, precisissimo Raggiungo Giovanna perché sicuramente ha terminato il suo bel capolavoro Complimenti, complimenti alla signora, complimenti a Giovanna Signora, si è guardata, ha visto che cosa ha notato? La differenza La differenza La differenza, ma soprattutto noto questa luminosità e sono d'accordo con te che questi prodotti sono un'eccellenza Esatto, sono esattamente questo quindi abbiamo reso la signora non solo più bella anche se la signora diciamo già partiva con una bellezza già propria inoltre insomma la signora è sicura di aver messo sulla pelle dei prodotti assolutamente eccezionali che non le daranno problemi, non avrà allergie, non avrà reazioni Bene, signora soddisfatta perché qui non possiamo dire rimborsate perché non possiamo rimborsare niente in quanto il prodotto come dicevo prima è eccellenza Lei bellissima, lo era già, lo è diventata ancora di più luminosa più che mai Complimenti, complimenti a te Grazie Buon lavoro e ricordiamo che questi prodotti Sono eccezionali, sono completamente naturali sono allergici, sono della Elan Perfetto Elan, insomma Ragazzi, noi abbiamo quasi terminato abbiamo terminato come si suol dire in bellezza perché in bellezza la bellezza della vostra cliente perché penso che non vi abbandonerà Giovanna con la sua braura ha messo in risalto sia l'azienda che il prodotto e la sua opera che dirvi? Siamo soddisfatti Sì, noi siamo felici di proporre questi prodotti Giovanna diceva bene, la Elan è un marchio che ci tiene al cliente forma le visagiste Giovanna conosce a menadito tutti i prodotti della Elan infatti in queste giornate noi ne abbiamo tre l'anno tre e quattro l'anno quindi ci sono anche quando verrete potrete anche magari chiederci quando è la prossima giornata? Ecco, allora possiamo dire che la cliente che usufruisce se viene a comperare perché sicuramente ci sarà un bel via vai adesso dopo quando si pubblicizza qualcosa c'è sempre gente curiosa che rimarrà mi auguro che ci sia questo riscontro beh, dite quando ci sarà quest'altro puntamento verosimilmente il prossimo sarà maggio-giugno e sempre in queste giornate si deve concordare con l'azienda con queste giornate noi offriamo sempre anche scontistiche per la Elan tipo oggi cioè il 20% sul make-up e sulla linea viso e il 10% su tutto il resto a nome, a marchiato Elan Sì Ragazzi e che dirvi? Grazie tanto grazie a voi perché vi dico grazie a nome di chi verrà perché sicuramente verrà entrerà con la sicurezza di andare via soddisfatta con prodotti naturali e di bellezza Buon lavoro e vi auguro ogni bene Grazie Chiunque volesse contattarci su Facebook o su Instagram Karma108 e Karma.108 su Instagram Anche se avete delle domande scriveteci e saremo sempre disponibili Un bacio a voi tutti grazie anche a voi